Al via la semplificazione delle norme regionali. Comuni, nuova fusione in Piemonte. Grattacielo della Regione. Chiarezza sui tempi. Il 26 e il 27 luglio il Consiglio regionale ha discusso e approvato la legge che semplifica e riordina le norme regionali. Nelle pause dei lavori, il 26 luglio, sono state ricevute le delegazioni degli infermieri pediatrici della regina Margherita di Torino e degli ambulanti. Il 27 i dipendenti della Venaria Reale. L'Assemblea ha poi approvato la delibera che indice il referendum per la fusione dei comuni di Cassano-Spinola e Gavazzana, in provincia di Alessandria, e ha effettuato alcune nomine di competenza, tra cui Compagnia di San Paolo. In chiusura della seduta del 27 luglio, il Consiglio ha approvato alcuni atti di indirizzo, tra cui uno per l'adozione di una disciplina nazionale sul Biotestamento e ha svolto il dibattito sul Salone del Libro, a seguito delle comunicazioni del Presidente della Giunta regionale, Sergio Chiamparino. In copertina Il Consiglio regionale ha approvato il 27 luglio, dopo quattro sedute di aula, la legge che semplifica e riordina le norme regionali. L'articolato riguarda diverse materie, servizi sociali, trasporto e logistica, cultura e istruzione, turismo, sport, foresti e ambiente, sanità, personale regionale. Tra i punti nodali della legge, la rideterminazione del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti, su cui le opposizioni hanno presentato diversi emendamenti, le nuove procedure di autorizzazione ed accreditamento delle case di cura private e il mantenimento delle risorse previste per le imprese alluvionate nel 2000 a sostegno di Eurofidi e Confidi, consorsi di garanzia storicamente presenti e operanti sul territorio regionale. In Piemonte si avvia l'iter per una nuova fusione di comuni. Il Consiglio regionale ha approvato il 27 luglio la proposta di deliberazione che indice il referendum per l'istituzione del comune di Cassano-Spinola, mediante fusione dei comuni di Cassano-Spinola e di Gavazzana, in provincia di Alessandria. Il referendum per i cittadini dei due comuni potrà avvenire tra il 1 ottobre e il 15 novembre. Nella pausa dei lavori dell'aula sono state ricevute a Palazzo Lascaris tre delegazioni. Il 26 luglio, in Sala Viglione, gli infermieri pediatrici dell'infantile Regina Margherita di Torino hanno consegnato una petizione per chiedere la tutela del loro ruolo professionale in continuità assistenziale, mentre in Sala Presidenti una delegazione di ambulanti ha chiesto un'ulteriore proroga, fino al 2018, della sospensione della verifica annuale di regolarità delle aree pubbliche, Vara. Il 27 luglio, infine, sono stati ricevuti i lavoratori della legge di Venaria da tempo in agitazione per il nuovo appalto dei servizi. Il Vice Presidente della Giunta regionale ha svolto una informativa il 25 luglio alla prima commissione del Consiglio regionale sul grattacielo della Regione Piemonte. L'assessore ha annunciato che nei prossimi giorni si chiarirà se si potranno riprendere a breve i lavori del palazzo, per concludere entro un anno circa, o se occorrerà svolgere un'altra gara per far ripartire i lavori con l'allungamento dei tempi.